È possibile in solo due ore e mezza raddoppiare la tua capacità e velocità di lettura? Assolutamente sì. La cosa pazzesca è che le persone rimangono incredule, anche persone molto adulte che dicono eh non ce la farò mai come è possibile in così poco tempo. In realtà è che purtroppo è come se avessimo un freno a mano, un gesso attorno agli occhi. In una sera io ti tolgo il gesso e ti inizio a riabilitare i muscoli in modo che senti proprio una differenza abissale nella capacità di lettura, di comprensione, di acquisizione delle informazioni. Ascolta cosa dice Monica, sono le soddisfazioni più belle proprio perché ti lascia le sue parole. Ecco qui, la troviamo subito. Che sono riuscita a fare due volte e mezza a scorrere il testo e in più una volta mi sono fermata, ho posato diciamo il foglio perché non mi sembrava vero. Dicevo boh è impossibile. È impossibile? Come rendere l'impossibile possibile? Una laurea in psicologia, 30 anni di esperienza, ci metto la faccia e ogni giorno si vede quanti libri leggo. Libri lì, libri di là, se non riesco, ecco qui, libri ovunque perché io adoro leggere, leggere apri la mente. E hanno fatto un sacco di ricerche che dimostrano che quando tu leggi certi testi è come se attivassi delle aree cerebrali che solitamente non usi e che ti vanno a riportare a delle emozioni e a delle attitudini che altrimenti non avreste. È come se entrassi in nuovi mondi. A serpare. Vieni in una sera a raddoppiare la tua capacità di lettura con il mini corso di lettura veloce. Test iniziale, test finale in mezzo a un sacco di strategie pratiche per raddoppiare in una sera la capacità. E se vuoi puoi aggiungere il mini corso di memoria. Anche lì in una sera raddoppi la tua capacità di memorizzazione. Davvero. Penso che tu senta la mia energia. Penso che tu senta la mia essenza. Penso che tu senta anche con che fierezza ti posso dire che mi stanno chiamando sempre più università anche prestigiose e importanti per tenere i corsi all'interno dei loro Atenei. Però la cosa bella è che sono loro a chiamare me. Non sono io a bussare da loro. E questo ti fa capire che forse un segno c'è. Ciao, ciao, ciao. Ti aspetto. Ciao, ciao.